È un momento di orgoglio perché far conoscere per un mese in questo posto prestigioso come abbiamo seguito il paese in questi 90 anni è una straordinaria occasione. Per questo abbiamo voluto portare volume di pregio, macchinari originari per far vedere quanto l'istituto è stato al passo con i tempi nelle capacità di esercitare questa responsabilità di diffondere l'informazione ufficiale del paese. Presidente, uno spazio importante all'evento è dedicato ai giovani. Quanto conta una maggiore conoscenza della statistica nel largo pubblico? È una sfida grandissima. Noi produciamo tanti dati di buona qualità. Quello su cui dobbiamo migliorare è la promozione del loro utilizzo e quindi in generale il grande pubblico e soprattutto i giovani debbono comprendere l'utilità, l'opportunità fornita dall'istituto nel descrivere in modo accurato la realtà in cui vivono. E quindi ci rivolgiamo fortemente ai ragazzi per far vedere loro i vantaggi nell'utilizzo dei dati e quindi, come ripeto, di una maggiore consapevolezza di quello che sono le caratteristiche della società in cui vivono e delle prospettive. Perché leggendo i dati si possono anche avere degli scenari di quelle che possono essere le prospettive delle persone. Grazie. 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 Grazie.